Ti ho fatto la burger di broccoli con patate, provola, panno grattugiato e formaggio. Ora ti faccio consulare. Cotto, perciò non mangio proprio questo, il favorito è venuto consulato. Sia Teresa, buongiorno. Ciao, sabato. Ma io qui vedo broccoli, patate, panno grattato. Sabato, ci faccio una cosa nuova, ci faccio la burger di broccoli e patate. Hamburger di broccoli? Senza canna. Hamburger vegetariano? Vegetariano, poi faccio come succo. Sia Teresa, va anche sul light. C'è gente che non può mangiare la canna. Mettiamo a bollire le patate. Le patate e mettiamo i broccoli. Sebbene si fa levato da bollire. Sia Teresa, diciamo gli ingredienti? Sì, sabato. Abbiamo messo un quattro di broccoli. 250 grammi. Questo per fare due o tre hamburger. Poi ognuno si regola per quanti ne deve fare. Questa non so. 125 grammi di patate. 125 grammi di patate. 30 grammi di formaggio. 30 grammi di formaggio. E 30 grammi di panna grattugiata. Sale. Quanto basta. Ci metto anche i pepe. Questo poi facciamo vedere dopo quando andiamo a completarli. Ah, metto tutti insieme. Abbiamo messo il melà, le patate. A bollire. E poi mettiamo i broccoli. Perché i broccoli e le verdure sono così fanno. A bollire insieme alle patate. Insieme alle patate. Abbiamo scavurato patate e broccoli. Ecco qua. I broccoli e le patate sono pronti. Andiamo a schiacciare insieme? Andiamo a schiacciare insieme. E facciamo la burger. Schiacciamo per bene tutto. Sì, perché è da schiacciare. Ecco qua. Aggiungiamo. Mettiamo 30 grammi di panna grattugiata. 30 grammi di pane grattugiato. 30 grammi di pane grattugiato. Sale quanto basta. Sale quanto basta. E un po' di pepe ce lo mettiamo? Giusto un po'? Sì. Allora ci mani poco, capite? Più sauro. Insaporiamo un po'. Si può fare anche senza pepe però. Ecco qua. Come si preferisce. Adesso andiamo a mischiare tutto. Sì. Sì. Sia Teresa andiamo a fare gli hamburger. Ah eh. Siamo pronti? Formiamo una pallina. Provola. Ci inseriamo pezzettini di provola dentro. E andiamo a formare l'hamburger. Bello e preciso. Lo facciamo. Ecco qua. Ed ecco l'ultimo. Ne sono usciti quattro. Sia Teresa? Sia Teresa. Ti ho fatto la burger di broccoli. Con patate, provola, panna grattugiata e formaggio. Ora ti faccio conzolata. No. Cotto. Perciò non mangi proprio qui. Favorito? La vendita più conzolata. M Burada da. Nessun buoni. Grazie.